Finalmente dopo due anni di pandemia si riparte con la 67esima edizione della mostra dei bovini di Razza Chianina con la nuova location, la nuova ubicazione che sarà in località La Fratticciola nel comune di Cortona. Questo perché? Perché ci è sembrato più opportuno, più giusto portare queste esposizioni di questo stupendo esemplare che è tanto rappresentato per il nostro territorio nel posto dove esiste il Museo della Civiltà Contadina. Quindi è un binomio secondo noi perfetto quello di riportare questa esposizione in questa località, in questa zona dove il giorno del 19 marzo e il 20 marzo sarà esposta la Razza Chianina. Avremo più di 40 capi, più di 12 espositori a far vedere questo splendido esemplare dal vello bianco che è tanto rappresentato per la nostra storia nei primi anni del Novecento. Questa razza autoctona ha tanto rappresentato per il nostro territorio ma poi con la dissoluzione della mezzatria negli anni 60 è stata sicuramente lasciata a se stessa e abbandonata. Un profondo grazie va detto quindi ai tanti allevatori che ci hanno creduto negli ultimi anni e quindi vi posso dire solamente grazie. Saranno presenti con l'esposizione e grazie al loro impegno nel portare avanti anche questa tradizione che questa razza da un punto di vista sia zootecnico che economico deve essere sicuramente rivalutata e valorizzata.